Fatto di da loro? La situazione è quella che è Poi vedi La verità è che Che sto mese in cielo, dai Ancora Ah, Bonetti E siamo onesti Ti ho mai pagato il ritardo all'affitto? Sempre Ecco, appunto Quindi dovresti essere abituato Senti, Giulio I ghiacchi restano a zero C'ho qui un egiziano Che mi ha chiesto a sto posto Per chi sei anche il babbaro Mi paga subito in contatto Eccola Lo dico che devo fare? Che devo fare? Dammi un altro po' di tempo E ti do tutto Ho capito, ma Ti chiamo io? No, no Ti chiamo io Ciao Ti è a posto? Oh, oh, oh Piano E' mica importante Deve essere ovvio Infatti, mi so Mi so sbagliata Grazie, ciao